Bene la visione del documentario, giusto proporre la cittadinanza gratuitamente, perché questo vuol dire fare anche comunità in un momento come questo, però non abbiamo voluto dimenticare Gianluca Viali fosse sì conosciuto qui a Cremona, ma meno noto fuori da un certo giro, che era quello della solidarietà e immediatamente quando abbiamo pensato la parola solidarietà ci è venuto in mente Agropolis, che è una meravigliosa realtà cittadina che tutti noi abbiamo imparato a conoscere e che Gianluca Viali ha fondato, è stato uno dei fondatori, ma soprattutto la cosa che io sottolineo sempre con piacere pensando a questo sodalizio è che Gianluca Viali, Cremona non ce l'aveva solo nel cuore e a parole, ma ce l'aveva a Cremona nei fatti.